Ciao belli, come state? Siamo su Brawl Stars e oggi, attenzione, seguite il video perché è l'ultimo giorno della stagione di Sete di Potere. Yoshi Pandex, primo e secondo link in descrizione, 1046 coppie al massimo, possiamo mettere le 1100 perché con tutte schiaccianti si chiuderebbe a 1145, non cambia niente, sono 45 coppie buttate. Giocheremo tre partite e poi da domani nuova season, quindi seguite il canale, iscrivetevi, campanella. Oggi la sparo alta, dato che ho comprato tutte quante le skin con le gemme, a 10.000 like, ne chiedo sempre pochi oggi 10.000, ve compro le skin con i punti stellari. Ma non faccio spoiler, magari qualcuno sa già quale skin ho in mente. Codice Grax, importante perché credo manchino solo tre giorni alla fine delle skin speciali di Natale, non ve le fate scappare, codice Grax, tagliatemi su Instagram. Andiamo a giocare, rapina, e poi farò il Brawler Gold che odio di più. Grax con Bull farà un po' di freestyle, ci divertiamo. Il team, ragazzi, Nidacolt e Bull, dall'altra parte ho visto che è sfuggita qualcosa però. L'importante è il divertimento e dobbiamo vincerne almeno due, mo due entreranno ragazzi. Speriamo di sì, non voglio portare male ma penso che due possano tranquillamente entrare. Io qua ho fatto pochi danni, in realtà qualcosina ho fatto. Yoshi sta sulla cassa, danni molto good, Vandex ragazzi, colpi su colpi. Vi voglio dire una cosa importante, poi ritirò anche a fine video. Oggi alle 2, probabilmente alle 14.30, live di Clash Royale, raga. Non ve la fate scappare, Grax sulla cassa, vai di colpi, occhio perché Cotoletta vuole tirarmi addosso di tutto. Però io qui ho utilizzato un gadget da pollo, non dovevo, assolutamente non dovevo. Un attimo che recupero, buona la ulti del Pandex One. Grax sicura, viene stunnato, ho buttato via un altro gadget da Pollastro, però non ho caricato la ulti. Grosso problema, Grax ha solamente un quarto dei ulti, bisogna andare su Ardana Mike perché Ardana Mike me chiude. Sicuramente ci avrà un altro gadget, occhio Ardana Mike e tira il Bonbons, occhio al team in the mid. Buona la difesa, 36, una bella partita, raga, e mi sa che l'hanno pure vinta. Ci mettono in difficoltà sul finale, belli miei. Io vado avanti, te corsa, Yoshi c'è. Ha laggato Ardana Mike, ragazzi, mi sento Marco. Occhio che questa me counter ha di brutto l'esistenza terrestre. Ho la ulti, se loro difendono io vado come un treno sulla cassa e prima a vincerla. Devo stare molto attento, raga, non ho giocato bene, ho giocato veramente male. Però certo, se faccio un attimo il treno della situazione, posso provarci! Le chiappe di Grax, il bull di Grax. Pandex MVP, ovviamente ci serve un'altra partita vinta e chiudiamo a 1100, stagione neutra. Bene per noi, ottimo, i punti stellari ci serviranno per scioppare cassa. e skin. Clash Royale, oggi alle 14.30, non mancate, ci sarà live programmata. Questa è partita subito Mortis, vocio, ma che state a dire, gà? Ma non mi dite che è una comp nuova, guardate ragazzi come vado a rosicare, non ci fanno fare 1100. Ma come vocio Mortis? Ma io non ho mai visto una cosa di questo tipo. Ma never! Attenzione, un attimo c'è sta bull. Io provo a fregarmene, vado dritto. Tanto Mortis non penso che mi causi chissà quelle problemi. Ma certo, se c'ho l'immunité, fraternité, legalité, mi fa un sacco di danni. Provo ad andare ragazzi sulla cassa, 1, 2, 3. Posso utilizzare una sgaggettata, perché no, se ne dire. Un attimo che torno dal pocio, almeno lo presso. Mi piacerebbe ragazzi prestare il pocio per caricare il gadget e poi magari jumpare la cassa. Però prima di tutto devo recuperare la life. Ho finito già i gadget, non sto messo bene, ma loro stanno tutti in difesa. E finché Grax rimane qua sopra nessuno pusherà. Nessuno avrà il coraggio di pushare. Il Mortis vuole affettare Nita. Grax va sulla cassa. Pocio, tra 400 anni mi fai danno. Un attimo all'urzacchio. Recupera i colpi Grax. Il Mortis me lo mangio. Ok, e poi c'è Colte. E poi c'è Grax che recupera. Che bella partita questa. Sapete che vi dico? Farò anche una partita col Brawler Gold, perché... ...so proprio curioso ragazzi... ...di vedere quanto è forte quel Brawler. C'è pensa Yoshi. Win. La seconda andata. Hittata le 1100. Ricordo Yoshi e Pandex, primo e secondo link. Ma che ve lo dico a fa? Sono incredibili. Musica del Grax compare. Ragazzi tornerà Sanremo. Amedeo, chiama me! Amedeo! Ci vogliono i furi a Sanremo. Invitate me. Insieme a Ibra. Grax e Ibra. Coppia pazzesca. Attenzione. Attenzione. Ma che fino ha fatto poi Buco, raga? Buco tornerà nella prossima edizione Sanremo. Io ci voglio andare, eh. Sanremo con Buco. Intanto vado avanti. Cerco di non crepare, ma mi sa che Bombardino... ...me sfonna malissimo. Però Penny l'ho sciolta. Un attimo che... Voglio provare a fare almeno un paio di colpi on the cassa. Potrei dargli una sgaggettata. Ma ho fatto bene a non sgaggettare. Sarebbe stato sprecato quel gadget. Magari adesso posso tornare, ragazzi, con la corsa quella divina. E andare a fare danni. Stecca, ci prova. No problem for me. Vai, Grax, che... No, no, no. La ulti, oh! La ulti! Devi reali tutti a pizza, Grax! Peglia la cassa! Vai, che è abbastanza veloce! C'è pure, ragazzi, l'orsacchio. Nita Rudolph! Non tornerà più! Tre win anche oggi. MVP finale. Ma di che vogliamo parlare? Stavo dicendo, ragazzi. Nita Rudolph, Dynamike, Babbo. L'unico Babbo di Natale per gioco. Non tornerà più. E anche Penny Elfo. Mi raccomando, ragazzi. Occhio alla penna. Tre giorni. Codice Grax. Supportatemi se volete supportarmi, ma il punto è compratele perché se no non ce l'avete più. Pandex e Yoshi, li conoscete. Prima e secondo link. Ragazzi, lo faccio. Non so se avete notato, sto anche scalando con le coppe piano piano. Recuperiamo il record. Sicuramente lo nerferanno nel prossimo bilanciamento. Potevo anche non fare il predict perché sicuramente sarà così. Lo faccio, ragazzi. Lo voglio fare. Colt. Livello cold. Non l'ho mai fatto livello cold perché l'ho sempre odiato. Lo odio tuttora, ma adesso bisogna farlo per forza perché Colt è troppo forte. Quindi, investo 1.250 per farlo cold. Eccolo qua. Sperando di trovare una star power e magari anche il gadget. Perché una volta trovata la star P e il gadget, si potrà utilizzare anche in sede di potere. Io ringraxio, Pandex e Yoshi vado a fare, al volo, avevano anche cambiato, una partita in duo per vedere com'è senza gadget. A livello 9. Non vale niente. Così a casaccio! Siamo in partita! 1.000 laghi, attenzione che adesso si chiama laghi acidi. Siamo con Sandy. Certo, fa un po' più di danni, eh. Sicuramente il Colt lo utilizzerò, ragazzi, per i robottoni. Con il robottone Colt fa il panico. Certo, se poi becchiamo il missile quello tosto, a quel punto, ragazzi, vi saluto. Qua ci stanno due cassi. Guarda il gioco, come ci sorride. Abbiamo fatto Colt e il gioco è contento. E, mi sembra che ha fatto una kill. Colt, siamo a 9? A 9. Stavo dicendo 7. Scendo sotto. Tutte le munizioni attive. Ancora 5 squadre. Non si può perdere! Non si può perdere. Dopo tutte le vittorie in sede di potere abbiamo chiuso la stagione con sole 7 sconfitte. Ma per fare le 1.250 servono al massimo 4 sconfitte. e Grax non è in grado. Occhio al Mortis. Piper c'è. Quel Barry la va giù. Piper c'è. Ancora lei. Attenzione! 1.000 in face! Immaginatevi il missile con 13 power up. Un missile da 10k de danni. Ma qual è il senso? Sono contento che è morto il Colt avversario e mi dissocio dalla violenza. Bonnie per Mr. Pingu. Grax la chiude. 1.200. È un brawler totalmente fuori testa, ragazzi. Mi dissocio. Depotenziatelo. Ma che è sta roba? Brawler Gold. Volete altri Brawler Gold? Ne abbiamo da fare, ragazzi, 13. Scrivetemi un commento qui sotto. Lascio i cuoricini. Quello più carino lo facciamo nel prossimo episodio. Iscrivetevi, campanella, codice Grax. E vi ricordo, 10.000 like, scioppino stellare. Codice Grax per tutto quanto. Machia Grax! Pandex e Yoshi, primo e secondo link! Ci faremo anche la prossima stagione. Un'ultima cosa. 14.30, Clash Royale, live. E questa sera, Brawl Stars. Ciao! Grazie a tutti!